Siamo con Manuel Bruno al termine di una maratona, un'autentica battaglia, come alla sera dell'Unipol Arena, si è deciso tutto al quinto set, ma questa volta ad avere la meglio è stata Grotta Zolina. Sì, è stata una partita bellissima giocata su tutti i fronti, noi abbiamo dato tutto, loro sono stati molto bravi, ma merito anche a noi che l'abbiamo portata fino al tiebreak, perché ci mancavano due componenti molto importanti e siamo stati bravi, abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela con tutti e che siamo un bel gruppo. Ecco, abbiamo giocato dei set con percentuali fantastiche, primo e terzo set, 76% in attacco, una grandissima pallavolo contro una grandissima squadra, non credo sia sbagliato dire che ci portiamo ai playoff che iniziano mercoledì, tanta consapevolezza di poterla giocare con tutti nonostante le difficoltà. Esatto, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, complimenti a loro perché sono una fantastica squadra, merito loro, però noi possiamo dirci che se giochiamo così come gruppo possiamo dare fastidio a chiunque. Grazie Emanuele, ci vediamo subito in palestra già mercoledì. Ci vediamo mercoledì, mi raccomando, numerosi.